Buone notizie dal comune di Laurino per quanto riguarda i cittadini contagiati cominciano a verificarsi le prime guarigioni e di conseguenza scendono anche i numeri dei positivi. Grande sospiro di sollievo per la cittadinanza e per il primo cittadino Gregorio Romano che sottolinea che l'asla di Salerno ha comunicato dopo lo screening di massa che non si tratta di variante indiana. La notizia positiva è che oltre che tutti i tamponi che abbiamo fatto nello screening di massa che ha riguardato 414 persone, tutti negativi, anche quella che l'asla ha anticipato che non si tratta di variante ma soprattutto che negli ultimi due giorni si sono negativizzate moltissimi dei positivi che avevamo registrato per cui il fenomeno sta rientrando e questo ovviamente ci rende più tranquilli tant'è che non ho adottato più alcuna misura restrittiva rispetto a quelle che sono le norme in vigore in tutta la campagna.